Ciao, sono Elisabetta, quella che vi spiega le cose immobiliari. Oggi volevo aiutarvi sul tema agenzia immobiliare, quando la devo pagare e quanto mi costa. Allora, l'agenzia immobiliare termina il suo lavoro quando ha trovato l'accordo tra le parti e convenzionalmente si fa coincidere con la sottoscrizione e la stipula del compromesso. Il compromesso è una scrittura privata, quindi è facoltà delle agenzie immobiliari poterlo preparare e farvelo firmare ovviamente. In quel momento l'agenzia immobiliare vi presenta le fatture e voi le dovete pagare o con un assegno o con un bonifico. L'assegno e il bonifico insieme alla fattura verranno poi consegnati al notaio che li indicherà in atto. In atto verrà indicata la mediazione che ha percepito l'agenzia immobiliare sia da parte dell'acquirente sia da parte del venditore, dove verrà indicata la fattura, l'importo, la modalità di pagamento e la registrazione a rea dell'agenzia immobiliare. Quanto costa un'agenzia? Allora, l'agenzia immobiliare tendenzialmente ha una percentuale che a seconda del comune di residenza più o meno è sempre fissa, si dice usi e consuetudini. Io posso parlarvi per quel che riguarda il comune di Torino, che è la città dove principalmente esercito la mia attività. Normalmente a Torino chiediamo il 3% o il 4%. Diciamo, negli anni non mi è mai capitato di sentire delle cifre oltre il 4%. Spero di essere stata chiara. Se avete dei dubbi chiedete al vostro agente immobiliare di fiducia oppure a me. Ciao, buona giornata!